Sì, va bene? Francesco dove stai? Vuoi venire vicino? Sì, sono qui con i lavoratori della San Galli per presiedere davanti ai cangelli e per dire per l'ennesima volta no allo scippo e al lavoro sul territorio di Manfredonia, di Monte e Mattinale. Sì, sono qui. Sì, sono qui. Sì, sono qui. Sì, sono qui.